coronavirus 12 mesi fa il primo caso a Vallefoglia girava col macete al campus scolastico arrestato 19enne appartamenti all'ex consorzio agrario la procura ferma i lavori i bambini delle scuole a pranzo col menù caro a gioachino rossini buona serata oggi è giovedì 25 febbraio ed è trascorso esattamente un anno dal primo caso che si è verificato di coronavirus a Vallefoglia in questo primo servizio quindi questa sera vogliamo ricordare come tutto cominciò e come tutto proseguì in questo terribile anno 25 febbraio 2020 25 febbraio 2021 è passato un anno dal primo caso di covid-19 diagnosticato nella provincia di Pesaro Urbino un anno fa appena una settimana dopo il paziente 1 di Codogno arrivava nel pesarese il tampone positivo di Michele Lamberta 29enne oggi residente a Piacenza e prima a Vallefoglia dove vive tuttora la famiglia e dove Michele ha risieduto dalle 2000 alle 2018 paziente 1 della nostra provincia ma anche delle marche Michele all'epoca accusò febbre da metà febbraio ma allora si era ancora nel periodo in cui si vedeva il coronavirus come uno spettro che alleggiava dalla lontana Wuhan in Cina un giorno dopo il primo caso di Vallefoglia arrivò anche il primo ricovero per una pandemia all'ospedale di Fano pandemia che un anno dopo ha visto contagiati al covid-19 65.785 marchigiani di cui 14.658 nella provincia di Pesaro Urbino secondo il servizio sanitario regionale sono 53.500 le persone dimesse e guarite dal 25 febbraio di un anno fa ad oggi ma le marche in un anno hanno pagato il prezzo salato di 2.219 morti di cui 1.257 uomini e 962 donne l'età media dei decessi di 82 anni e il 96 per cento dei morti presentava un quadro clinico di patologie pregresse un anno dopo si continua a viaggiare con il timore di una terza ondata e non aiuta il fatto che oggi si sia registrato il numero più alto di contagi del 2021 732 casi su 5.625 nuove diagnosi su un totale di 7.870 tamponi con un'incidenza tamponi positivi del 13 per cento a fare da traeno in questo 2021 è sempre la provincia di ancona con 301 casi nella giornata di oggi più stabile il pesarese con 83 nuovi casi il comune di pesaro ha stilato il calendario del secondo screening scuole sicure dedicato ai tamponi fra gli studenti delle scuole superiori si terranno in quattro giorni giovedì 4 e venerdì 5 marzo e a seguire giovedì 11 e venerdì 12 marzo confermati i luoghi del primo screening cioè le palestre del liceo marconi del mengaroni dell'istituto cecchi e dell'alberghiero santa marta si sottoporranno a tampone i ragazzi delle superiori dalle ore 8 e 30 alle 13 e 30 novità di questo secondo screening è che nei due pomeriggi del giovedì potranno essere sottoposti al test anche i ragazzi delle scuole medie dante allighieri galilei don gaudiano leopardi pirandello manzoni tonelli nuova scuola e anche istituto olivieri ed ora passiamo alla cronaca perché un 19enne di origine nord africane residente a sasso corvaro è stato arrestato questa mattina pesaro fra via guido da rezzo e via boito manette scattate dopo una rissa scoppiata alle 8 e 30 davanti all'istituto benelli del campus scolastico il parapiglia è stato segnalato ad alcuni agenti di polizia locale che si trovavano in via nanter per un servizio di vigilanza al rispetto delle norme anti covid arrivati sul posto il gruppo di ragazzi coinvolti nella rissa si è disperso ma gli agenti hanno seguito il 19enne che si allontanava inveendo sul gruppo il ragazzo ha rifiutato di farsi identificare dagli agenti per poi aggredirli in una colluttazione che ha portato al ferimento degli agenti è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri a supporto e una volta bloccato il ragazzo si è scoperto che nascondeva nei pantaloni un macete con una lama di 35 centimetri motivo per cui è scattato subito l'arresto per detenzione dell'arma e per aggressione a pubblico ufficiale ed ora passiamo a un incidente che si è verificato questa mattina dopo le 10 una donna stava attraversando via giolitti sulle strisce pedonali ed è stata investita da un ciclomotore sul posto la polizia locale e i sanitari del 118 che hanno prestato le cure ai feriti ringraziamo allora luca un nostro telespettatore che ci ha subito inviato le foto che vi stiamo mostrando vi ricordiamo quindi a tal proposito il nostro numero whatsapp per le segnalazioni 370 366 72 10 al quale appunto vi invitiamo a inviarci le vostre segnalazioni quindi grazie luca un'indagine della procura della repubblica ha bloccato i lavori al porto di pesaro che prevedono di realizzare due palazzi ad uso residenziale nell'area in cui è stato demolito il consorzio agrario nel prossimo servizio andiamo a scoprire i motivi di questo stop ci troviamo sulla banchina del porto di pesaro a pochi passi da dove termina viale trieste e dove alle nostre spalle sorgeva fino a pochi mesi fa il degradante consorzio agrario un edificio che si è trascinato per decenni di abbandono e che è stato demolito a fine novembre il suo posto è destinato a due nuovi palazzi di grosse dimensioni che prevedono la realizzazione di 74 appartamenti un progetto partito a vele spiegate ma ora è arrivato un non preventivato blocco ai lavori ed è tutto da decifrare quando potranno riprendere alla base dello stop c'è un'indagine della procura della repubblica alla quale si è rivolta anche la capitaneria di porto per un approfondimento sui permessi di costruzione rilasciati dal comune di pesaro nella primavera del 2018 non è in dubbio la possibilità di costruire sull'area dell'ex consorzio piuttosto la procura della repubblica avanzato perplessità sul fatto che in quell'area si possano costruire appartamenti ad uso residenziale e non a fini strettamente legati alle attività portuali motivo per cui i magistrati hanno chiesto un incidente probatorio sull'interpretazione del piano regolatore indagando nel frattempo tre persone per inosservanza delle norme dei regolamenti edilizi illegale rappresentante della società costruttrice nova porto un paolo giorgini oltre al direttore e al progettista dei lavori il 12 marzo è prevista un'udienza nella quale un collegio di periti fornirà il parere sulle norme attuative del prg una situazione paradossale che ha uno dei suoi motivi scatenanti in una mancata valutazione della capitaneria di porto nel 2018 all'ok ai lavori intanto però il comando della capitaneria è cambiato l'assenso ai lavori è arrivato tre anni fa così come tre anni fa si è demolito il consorzio e sono pure stati pagati più di due milioni di euro al comune di pesaro come oneri di costruzione sconcerto fra chi deve costruire ovvero una partnership fra un'azienda pesarese come la renco e un fondo israeliano che un anno fa ha acquisito l'area del consorzio dall'azienda carducci srl ed è uno stop ai lavori ancora più imbarazzante dal fatto che circa l'ottanta per cento dei 74 appartamenti che si costruiranno in quest'area hanno già ricevuto proposte d'acquisto vincolanti ed ora andiamo a parlare della banca del territorio la banca di pesaro che nonostante le difficoltà vissute nel 2020 ha chiuso l'anno con un bilancio assolutamente positivo bilancio positivo per il 2020 della banca di pesaro il consiglio di amministrazione appena esaminato l'esercizio di un'annata contrassegnata da un utile netto di 4 milioni che rafforza il radicamento nel territorio dell'unica banca locale un bilancio assolutamente confortante secondo il direttore di banca di pesaro paolo benedetti sicuramente è stato un anno complicato da un punto di vista soprattutto dell'ambiente esterno che ha visto la banca ad affrontare situazioni eccezionali come si dice speriamo non ripetibili anche se ancora i momenti non sono dei più semplici la banca comunque ha reagito in maniera importante continuando a servire il territorio come abbiamo sempre fatto in maniera attenta sia per quanto riguarda le famiglie ma soprattutto per quanto riguarda le imprese con tutte mettendo in campo tutte quelle attività che poi sono state anche a livello governativo tra virgolette messe in campo a favore dei settori economici è chiaro che ci sono determinati settori economici che stanno risentendo in maniera importante rispetto ad altri ma soprattutto per quello che fanno sul servizio sto pensando principalmente al commercio noi non dobbiamo mai dimenticarci qual è la mission di una banca di credito cooperativo che è servire il territorio sempre facendo credito e raccogliendo risparmio sempre nella sana e prudente gestione questo è un principio cardine che guida che mi guida ogni volta che entro in banca però non dobbiamo mai dimenticare che gli utili vanno ridistribuiti investendo sul territorio quindi soprattutto sulle associazioni che possono essere sportive culturali assistenziali e quant'altro quindi per me questo rimane un vincolo che la banca non deve mai dimenticarsi perché questa è la nostra missione principalmente chiaramente la parte economica siamo un istituto di credito siamo un soggetto economico che deve rispettare le regole soprattutto in maniera corretta perché dobbiamo salvaguardare la raccolta dei risparmiatori io dico sempre noi raccogliamo qua per poi impiegare qua sul territorio quindi non è che abbiamo filiali che sono sparse per l'italia o quant'altro siamo in un territorio circoscritto ma sicuramente molto ricco e la banca vedo che viene sempre meglio riconosciuta come veramente la banca locale purtroppo altri istituti di credito sono scomparsi perché poi sono importanti e sono ed erano importanti anche soprattutto sto pensando agli istituti storici che hanno fatto la storia di questo territorio portandolo poi ad essere una delle in italia una delle zone a livello economico più importanti ritengo è partita da Iesi la prima tappa di un nuovo progetto a supporto dell'agricoltura delle marche un progetto che ci viene illustrato in questa prossima intervista dall'assessore regionale Mirko Carloni da 7 gennaio abbiamo iniziato a confrontarci con diversi livelli di comportatori di interesse tecnici associazioni imprenditori che ruotano intorno all'agricoltura quel metodo ha iniziato una stagione dove l'ufficio per primo gli uffici dirigenti la regione la giunta si è anche messa in discussione rispetto a alcune criticità del passato e oggi iniziamo da Iesi poi tutti gli altri province un confronto serrato con le imprese con chi con le associazioni con chi vuol dare il proprio contributo la propria idea alla prossima programmazione dello sviluppo rurale tenuto conto che durerà due anni sono 100 circa 170 200 milioni di euro e poiché noi ci teniamo molto alla ripresa del settore agricolo e crediamo anche che in questa fase ancora difficile attanagliata dal covid a tenere il focus sul futuro sulle aziende agricole sia anche un modo per parlare di speranza di sostegno di affiancamento alle imprese vorremmo creare usare questo tempo che abbiamo a disposizione per arrivare ad aprile con una proposta di modifica del psr che sia conforme alle aspettative alle esigenze alle così ambizioni dei nostri imprenditori crediamo particolarmente nel ricambio generazionale quindi nell'insediamento produttivo dei giovani vorremmo che ci fosse una maggiore aderenza dei giovani al sistema agricolo all'apertura di nuove imprese e soprattutto crediamo tanto nel rafforzamento delle filiere agroindustriali che possano portare a nuovi investimenti nuove occupazioni e ad un moltiplicatore economico pensiamo anche che l'agricoltura sia veramente un tema centrale in una regione come la nostra che è tra le più con un tasso di ruralità molto alto e quindi abbiamo anche combattuto in commissione politica agricole con le altre regioni che volevano mantenersi sul requisito storico per la ripartizione dei contributi invece noi abbiamo chiesto di rivalutarlo alla luce anche di una modificata geografia del turismo dell'attività rurale agricola e quindi in qualche modo beneficiando di ulteriori risorse rispetto al passato Asura ha avviato questa mattina i lavori per il consolidamento del muro perimetrale dell'ex complesso psichiatrico San Benedetto in via del governatore un intervento richiesto da tempo dal consiglio di quartiere del centro storico che rende più sicura la muratura che si stava inclinando pericolosamente verso la strada tolte anche le transenne di protezione che per anni avevano eliminato diversi posti auto lavori in corso non solo in strada ma anche in mare questa mattina infatti due imbarcazioni sono intervenute per il progetto con cui il comune intende rinforzare le scogliere della spiaggia di ponente e continua la settimana rossiniana in diretta su rossini tv questa sera alle ore 21 omaggio al cigno di pesaro con il concerto della filarmonica gioachino rossini diretta dal maestro donato renzetti domani alle 20 e 30 l'orchestra sinfonica rossini proporrà dal teatro rossini appunto buon compleanno rossini ospitando il grande solista internazionale giovanni gnocchi e nella settimana rossiniana gioachino rossini entra anche nelle scuole e in questo caso pure nelle tavole delle mense scolastiche oggi infatti c'è stato un pranzo molto particolare un pranzo con tema rossiniano che è avvenuto negli istituti del nostro territorio vediamo le limitazioni imposte dalla pandemia impediscono quest'anno di apprezzare dal vivo la musica della settimana rossiniana ma intanto c'è chi può godere dei sapori tanto amati al palato da buongustaio del più illustre cittadino pesarese sono i bambini delle scuole primarie dell'infanzia pesaresi che oggi si sono seduti nelle rispettive mense con un pranzo dal menù tutto rossiniano organizzato dal servizio politiche educative del comune fra le tante iniziative trasversali alla settimana rossiniana abbiamo rivisitato alcune ricette che ci sono state tramandate come maccheroni alla rossini il filetto in salsa vegetale insalata con vinagrette e per finire la torta di mele un pranzo che ha coinvolto 49 istituti con 2900 bambini a tavola a scoprire le rossini gourmet come primo passo mosso alla scoperta della storia e delle opere del personaggio simbolo della cultura cittadina curiosità che si è impadronita degli alunni della scuola pirandello quei bambini innanzitutto sono molto contenti di questa iniziativa noi abbiamo già parlato ai bambini ieri e di questo bellissimo pranzo in onore il ricordo di rossini quindi già ieri abbiamo parlato di gioachino rossini e tra l'altro loro sono rimasti anche e diciamo meravigliati del fatto che lui è nato il 29 febbraio allora proprio per ricordarlo ha detto ma maestra marta ma come facciamo adesso non poco più regliani ha detto infatti per questo siccome lui compieva gli anni ogni quattro anni quindi era molto più giovane degli altri allora noi per onorarlo gli abbiamo dedicato questo pranzo e addirittura loro appunto già sanno che gioachino era molto amante della buona cucina e quindi noi oggi gustando questo piatto particolare un po lo ricordiamo pensiamo a lui poi dopo vedremo anche delle sue opere alcuni momenti della sua vita e noi siamo onorati infatti i bambini stessi hanno detto ma noi siamo contentissimi che gioachino ormai per loro è diventato un amico è nato a pesaro e già alcuni di loro hanno avuto modo nel weekend di visitare il teatro rossini il via rossini con i loro genitori quindi diciamo vorremmo che questo evento potesse continuare a livello multidisciplinare nell'attività scolastica e siamo arrivati in chiusura di questa edizione del nostro telegiornale vi ricordo che in via del tutto eccezionale questa sera replicheremo questa edizione alle 20 e 15 e non nel consueto appuntamento delle 20 e 40 e adesso andiamo a vedere anche quale sarà la programmazione di questa sera infatti alle ore 21 ci sarà l'omaggio a rossini con la firarmonica giochino rossini come è detto appunto all'interno del telegiornale a seguire le 21 e 30 anche questo in via del tutto eccezionale abbiamo posticipato di 15 minuti insieme a canestro solo per questa settimana tra gli ospiti franz massenat piero benelli paolo poto e darwin cook e poi domani domani una nuova puntata in diretta con casa rossini paolo pagnini intervisterà stefano gottine che il presidente della under camera orchestra e poi alessio gnaccarini che è direttore generale di cosmo e poi avremo il sindaco di fossombrone gabriele bonci quindi vi aspettiamo domani alle 10 in diretta e domani è anche la giornata dell'ital service la ventiduesima giornata dal palanino pizza di pesaro trasmetteremo in diretta la partita alle ore 17 ital service pesaro contro meta catania e allora buon proseguimento di serata in compagnia di rossini tv grazie a tutti